Non siamo meglio degli altri, siamo completamente diversi, siamo alternativi alle strutture tradizionali in alluminio. Il nostro prodotto è rivoluzionario e porta con sé numerosi vantaggi. Andiamo a vederne uno a uno. I tempi di installazione con i prodotti s'amballa se si riducono fino al 70% rispetto ai sistemi tradizionali. Non c'è niente da assemblare e nessun fuori copertura da fare. È un sistema semplicissimo. Abbiamo numerose installazioni presenti nel nostro sito realizzate da pochi installatori in pochissime ore. Il nostro sistema abbatte notevolmente i cost al kilowatt. Infatti è un sistema molto semplice. Occorre solamente posare la guaina, posare la zavorra già forata e dotata di boccole M8 e posizionare i pannelli fotovoltaici grazie all'utilizzo di graffe terminali e centrali. I tempi di posa con il nostro sistema si riducono fino al 70% rispetto ai sistemi tradizionali con il kit graffa centrale e terminale. Tanti altri player sul mercato hanno delle soluzioni per le superfici piane, ma hanno pochissime inclinazioni. Noi di Sanballas abbiamo ben 40 modelli con inclinazioni da 0 a 35 gradi per effettuare le diverse combinazioni per posa orizzontale, verticale ed est-ovest. Non occorre fissare le zavorre sulla copertura, basta appoggiarle perché svolgono una doppia funzione, sia di supporto sia di zavorra in un unico elemento. Questo le rende estremamente versatili, si possono spostare per aggirare gli ostacoli, alzare per evitare le zone d'ombra, aggiungere delle file oppure toglierne. È possibile cambiare il layout dell'impianto senza nessuna difficoltà, perché è il pannello che dice del passo e non la struttura. Chiaramente è possibile anche ideare e progettare delle zavorre su misura, diverse per dimensioni, peso e misura, le cosiddette zavorre custom. In questo campo però ci muoviamo per progetti medio-grandi, in linea di massima superiore ai 200 pezzi. Offriamo un servizio di consulenza tecnica gratuita ai nostri clienti e potenziali clienti. In meno di 24 ore vi inviamo il progetto completo di distinta materiali, layout e calcolo al peso al metro quadrato. Abbiamo un ufficio tecnico pieno di professionisti, che durante tutta la giornata si occupa di progettazione di impianti fotovoltaici. Ne abbiamo progettati così tanti, abbiamo visto così tante casistiche che voi non vi dovete preoccupare di nulla. Pensiamo a tutto noi. Volete sapere uno dei maggiori vantaggi? Uno degli aspetti più discussi nel mondo del fotovoltaico è proprio la resistenza al vento. Spesso ci vengono mosse obiezioni su come fa una zavorra solo appoggiata e non fissata a resistere al vento. Ma quando ci basiamo su dati tecnici e principi dell'aerodinamica, allora possiamo stare tranquilli. Noi non ci siamo fermati solo qua. Ci siamo anche rivolti a enti tecnici esterni e abbiamo effettuato delle prove in galleria del vento. I risultati che abbiamo ottenuti sono stati straordinari. Infatti, per alcuni sistemi che vi presenterò fra poco, la struttura ha resistito a venti superiori a 150 km orari, paragonabili a un vero e ragano. Vi ricordo che si tratta di una struttura solo appoggiata e non fissata.